Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, è venuto a conoscenza del problema solo alcune settimane fa, in riguardo all'accorpamento previsto dell'Osservatorio Astronomico di Collurania di Teramo con quello di Roma. E dopo aver incontrato il direttore dell'Osservatorio Teramano, Oscar Straniero, ha messo in atto una serie di iniziative volte a scongiurare il progetto di accorpamento, coinvolgendo anche il governatore della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ed il senatore della Repubblica, Paolo Tancredi. L'Osservatorio è una realtà importante per tutto il nostro territorio, oltre ad avere una valenza storica indiscussa. Evidenzia così il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, e per questo non possiamo permettere che la struttura rischi di scomparire. Per questo motivo ho chiesto al Ministro dell'Istruzione, Maria Stella Germini, un incontro per poter esporre le motivazioni che ci spingono a chiedere di sorprasedere a questo accorpamento. È una questione che deve coinvolgere tutte le istituzioni ed in particolare tutto il Consiglio Comunale, ragione per cui il Presidente del Consiglio ha convocato la riunione del Capogruppo per la programmazione dell'attività istituzionale, al fine di valutare l'opportunità di convocare un Consiglio Comunale straordinario sul problema.